A Rete Fognari ha riparato il guasto all'ingresso sud della città, Gradenico ha rimosso il cantiere e adesso sarà asfaltata la strada. Rimosso l'aria di cantiere è posta al centro della carreggiata nel tratto sudale tra Viale Ermocotro e Contrada Fusco ed è ripristinata la regolare circolazione all'ingresso sud di Siracusa in direzione di Viale Paolo Orsi. Le dà notizie all'assessore al servizio idrico integrato Carlo Gradenico. Lo scorso settembre sotto quel tratto di strada a una profondità di 5 metri aveva ceduto la condotta principale della Rete Fognari che porta ai reflui cittadini al depuratore per evitare di realizzare uno scavo molto ampio in uno dei punti a più alto traffico della città. Paralizzando l'accesso sud di Siracusa attraverso un bypass era stato possibile intercettare il grosso tubo a monte ed effettuare i lavori di sbancamento su Viale Paolo Orsi dove è stata realizzata la nuova condotta. Ad oggi, afferma l'assessore Gradenico, i lavori di ripristina e collegamento della Rete sono terminati e dentro la prossima settimana si provvederà a riasfaltare il tratto iniziale di Viale Ermocro e interessato dagli scavi. Al termine la strada potrà essere regolarmente riaperta alla circolazione ed eliminare ogni disagio.